Casa green, questo green è una parola oggi usata in modo inflazionario. Quello che vorrei oggi comunicare è che chi deve fare delle scelte o degli investimenti deve avere la comprensione dell'attuale situazione in cui ci troviamo. E questo vedo manca questa conoscenza ed è difficile ovviamente poi muoversi quando queste conoscenze sono superficiali o addirittura sono legate a una serie di pregiudizi. Ho scelto questo tema proprio per comunicare quanto importante è questa conoscenza e anche la comunicazione. Qualcuno di voi forse si ricorda che esattamente vent'anni fa siamo partiti con il progetto Casa Clima, è un progetto che nasce da un'iniziativa che ho avuto nell'ambito del mio ruolo come direttore ufficiale rumore e era un progetto volontario, non c'erano decreti, non c'erano subvenzioni, non c'erano contributi. E mi ricordo che proprio oggi un rivenditore mi ha ricordato che quando è partito questo Casa Clima un anno dopo le vendite sono esplose dai materiali isolanti in Alto Adige proprio perché c'era questo richiamo di un involucro pregiato che poteva tagliare i consumi dell'energia. Ed era ovviamente una forte partecipazione non solo dai professionisti ma soprattutto dai comitenti che avevano un elemento di valutazione cos'è una casa di alta qualità energetica senza finire in descrizioni diciamo in un linguaggio cinese che oggi purtroppo sicuramente li ha testati per la gran parte ancora questo racconto di questi numeri è qualcosa di cinese. Però per capire, per fare le scelte giuste, per gli investimenti giusti vorrei uscire un attimino dal ramo di un contesto locale, regionale, nazionale e prendo le parole di Italo Calvino che dice se vuoi capire bene le cose importanti prima di tutto devi guardare da lontano e parto da una macro fotografia che è veramente molto lontano questo è una sonda, la famosa sonda Casini che è andato a esplorare lo spazio e a 1,4 miliardi di chilometri ha scattato le ultime fotografie prima che l'hanno portato all'esplosione all'esplosione per non andare a rinventare quel pianeta e se guardate bene in questo gigante universo c'è un puntino piccolo questo siamo noi nell'immenso di questo gigante universo che è ostile a qualsiasi forma di vita e qui c'è un piccolo pianeta che ha un piccolo strato sottilissimo che permette la vita questo siamo noi credo che si descrive molto bene siamo diventati ciechi, ciechi che vedono ciechi che pur vedendo non vedono credo che assistendo proprio anche agli interventi di stamattina purtroppo di nuovo mi sento conformato che la più grande crisi che oggi viviamo è quella della percezione non ci rendiamo conto che cosa sta succedendo come si può poi prendere giusti provvedimenti, investimenti se queste cose non conosciamo e vado in dettaglio perché arrivo a questa affermazione pesante ovviamente abbiamo una serie di allarmi che brillano su questo pianeta e hanno cominciato a brillare a lampeggiare nella seconda metà dell'ultimo secolo oggi abbiamo una perdita della biodiversità che vuol dire spaccare la rete della vita su questo pianeta nel ritmo di 100-150 specie di piante e di animali che stiamo distruggendo giorno per giorno abbiamo le risorse che che non stanno al ritmo che vogliamo avere proprio per il mondo delle costruzioni poi arrivo con i numeri un'acidificazione allarmante cioè stiamo assistendo dove gli oceani stanno morendo che forniscono, voglio ricordare, la metà dell'ossigeno su questa pianeta perché fino a una profondità di 2-2,5 km sta accumulando un sacco di energia iniettata da questa energia accumulata dai gas serra un inquinamento acqua, aree, suolo una defrostazione di nuovo un ritmo allucinante ultimo dato sembra che siamo intorno ai 30 campi da calcio al minuto che stiamo distruggendo cioè voi pensate che l'homo sapiens su questa via può proseguire che ha un futuro un elemento che vorrei evidenziare proprio in questo mondo delle costruzioni è questo bilancio l'anno 2000 nella storia non verrà ricordato come l'anno della pandemia del Covid se ci sarà un futuro anche questo va sottolineato ci sarà un particolare elemento nel 2020 perché è il primo anno in assoluto dove il peso di tutti i materiali prodotti dall'uomo ha superato l'intero peso di tutta la biomassa sul pianeta cioè una roba incredibile inammaginabile cioè tutto ciò che vive tutto ciò che è biomassa non ha il peso di quello che l'uomo ha prodotto e questo avviene negli ultimi 50 anni la statistica parte di 100 anni fa nel 1920 cioè voi pensate che questo ritmo possiamo mantenere aggiungendo ogni anno 80 milioni di persone su questo pianeta che vorrebbe avere un stile di vita come il nostro ricordando che l'uomo rappresenta il 0,01% di biomasso su questo pianeta forse cioè i 900 miliardi di tonnellate di biomassa contro i 1100 dei prodotti però quello che guardate bene è allucinante che la plastica rappresenta il doppio di peso di tutti gli animali su questo pianeta cioè siamo a un mondo di plastica e pensate che questo possiamo ancora prendere come status quo da proseguire nei prossimi decenni neanche nei prossimi anni e guardate perché si parla nella scienza della grande accelerazione che avviene nella seconda metà dell'ultimo secolo questo incremento di prelievo di materie prima che oggi siamo a un ritmo dall'ultima statistica di quest'estate di circa 100 miliardi di tonnellate che andiamo a prelevare e lo trasformiamo in rifiuto perché di quei 100 miliardi circa l'8-9% riusciamo a riutilizzare il resto è distruzione cioè se ci pensate bene proseguire sul lato delle rotte significa che ci servono altri 3-4 pianeti per il prelievo e ci servono pianeti per andare a depositare i rifiuti cioè questo non è un percorso neanche vicino a un concetto di sostenibilità questa è una testimonianza di assoluta insostenibilità dove il compartimento del mondo delle costruzioni è il pilastro portante il più devastante in questa statistica se prendiamo i macro settori costruzioni trasporto è il mondo del cibo ma comunque quello che mi delude mi arrabbia seguendo un sacco di interventi sto girando da decenni mi occupo da almeno 30 anni di queste tematiche è la questione dell'emergenza climatica attenzione non parlo del cambiamento climatico perché il cambiamento c'è sempre stato parliamo del global warming del riscaldamento del suriscaldamento perché stiamo stiamo interrompendo una grande stabilità climatica che ha permesso la nascita della nostra civiltà qui dove ci troviamo oggi era diciamo la chiusura la fine di un manto gigante di ghiacciai che partiva da da Monaco e finiva proprio lago di Garda è quello che è rimasto da quest'ultima era glaciale parliamo di 20 anni fa 20 20 mila anni fa e nelle mie zone parlo dell'Alto Adige c'era uno spessore di circa 300 metri di altezza per cui potete immaginare che clima ostile era per la vita per qualsiasi forma di vita la nascita della nostra la nostra civiltà ha la fortuna di avere una finestra di di un clima molto stabile cioè gli ultimi 10 mila anni c'era un'oscillazione intorno ai 0,4 0,5 gradi in 10 mila anni oscillava praticamente tra freddo e più caldo intorno ai 0,5 gradi adesso in questi prendendo in esame diciamo i 150 anni cioè dopo la nascita dell'era industriale abbiamo accumulato come media globale l'1,2 gradi cioè questo è unico nella storia del pianeta parliamo di 4,6 miliardi di anni cioè in questo brevissimo tempo questo sbalzo di temperatura e siamo all'inizio di un processo perché tenendo conto dell'inerzia del sistema la ricaduta la visibilità di questo di questo cammino pian piano si sta presentando come gli estremi che si notano sia come intensità che anche come frequenza oggi non dobbiamo più prendere in esame eventi di altri continenti l'abbiamo vissuto nelle Marche poco tempo fa questi giorni un dramma in Nigeria poco settimana fa ultra drammatico la questione in Pakistan dovete immaginare Pakistan non è un paese di cinque gatti la metà del territorio è finito sott'acqua uno dei più grandi produttori del riso potete immaginare che è ricaduta sull'approvvigionamento di cibo sul pianeta perché questo questo cambiamento climatico non riusciamo comunicarlo forse perché utilizziamo numeri forse perché c'è un sfasamento tra quello che faccio oggi e le reazioni del sistema che è sfasato di molti anni decenni forse anche addirittura secoli ma forse il dramma in assoluto lo viviamo perché questa CO2 questo famoso gas serra che è uno dei gas serra è invisibile è un odore se dalla marmita uscirebbe in viola in rosso in verde di sicuro avremmo cominciato da tempo a cercare di trovare delle soluzioni guardate il ritmo attuale quanto stiamo scaricando in atmosfera e l'atmosfera è questo strato ipersottile che circonda il pianeta lo ricordo sempre per legarlo a un'immagine come prendere una mela con uno strato di rugiada e lì stiamo iniettando questa massa di gas serra che fisicamente è un gas che riesce a alterare il bilancio energetico sul pianeta la grande fortuna per il momento è che più del 95% di queste energie immagazzinate finisce negli oceani che hanno una capacità ovviamente anche loro limitato di assorbire queste energie per cui ci stiamo avvicinando che quella faccia di quella presenza di CO2 nell'aria si fa vedere anche come profili di temperature su tutti i continenti dimentichiamo che queste leggi della fisica non sono negoziabili la natura ti presenta il conto e quell'estate oggi si sta bene si sta bene all'aperto la gente si gode della temperatura ma è drammatico siamo a fine ottobre è drammatico per l'agricoltura per tanti per tanti ecosistemi per cui ci manca la percezione perché non abbiamo quella capacità di vedere in un ritmo diciamo di grande scala questi cambiamenti e quella concentrazione per questo dico anche la difficoltà di spiegare questo rischio perché in realtà avrei dovuto aprire questo pomeriggio ma non voglio ripetere un shock di stamattina ma ci troviamo su un treno che ci porta in direzione a Apocalisse ma questo è un fatto è fisica perché questi 420 ppm che abbiamo nell'aria vedete il problema è astratto spiegate al cittadino comune che nell'aria abbiamo 420 ppm di CO2 e questo è un problema che è aumentato dal riferito all'inizio dell'era industriale del 150% il metano è aumentato del 260% il protossido di azoto un altro gas potente climalterante del circa 130% cioè questi gas si stanno accumulando e ovviamente abbiamo con questo toccato il termostato del pianeta 420 va spiegato che all'entrata dell'aria industriale eravamo a 180 perché vedete questo signore poco simpatico sull'immagine perché questa concentrazione avevamo 3 milioni e mezzo di anni fa l'uomo non c'era non esisteva l'homo sapiens l'homo sapiens è presente da 300 mila anni circa cioè ci stiamo avvicinando a quella temperatura in brevissimo tempo non è un problema per la natura siamo noi che dobbiamo prepararci e la domanda è se siamo in grado di cambiare diciamo i stili di vita diciamo la condivisione con la natura con quel tipo di aumento di temperatura perché a quei 420 dobbiamo assegnare una temperatura media tra i 3,5 e i 4 centigradi cioè quella temperatura in cui ci stiamo avvicinando entro questo secolo anche questo la reazione qual è? 3-4 gradi va bene avremo anche la possibilità a dicembre di girare in camicia no prendete in esame il vostro corpo se abbiamo 36,5 centigradi stiamo bene a 38 ci preoccupiamo a 40 diventa un'alarme a 41 non vivi più è la stessa cosa anche il pianeta è un organo vivente e in questo brevissimo tempo portarlo a quella temperatura significa gli esperti dicono fine della civiltà entro questo secolo fine della civiltà proseguire sull'attuale rotta e questo significa beh ho spiegato perché abbiamo questa energia oggi non visibile perché l'abbiamo iniettato negli oceani in un ritmo James Hansen l'ha paragonato a un'immagine legata a un'immagine sette bombe di tipo Hiroshima il secondo che stiamo iniettando la grande domanda è dove finiremo cioè questi sono dati dell'ICPCC dell'organo delle Nazioni Unite che ha proiettato i scenari dicendo guardate dipende da noi che cosa stiamo producendo che futuro prepariamo ai nostri figli e voi vedete 2100 l'attuale rotta è intorno ai 4-5 centigradi e lì c'è un collasso di tutti gli sistemi soprattutto e questo va sottolineato perché a Parigi vedete in fondo c'è questo impegno della conferenza di Parigi di stare sotto i 2 centigradi per questione di cibo perché proseguire sulla fascia dei 5 gradi vuol dire progettare una carestia planetare questo è il nocciolo del problema cioè come produce cibo per 8-9 miliardi di persone se certe determinate aree diventano inabitabili o il clima è tale che non puoi più raccogliere riso grano cereali eccetera per cui dobbiamo evitare questo stato febbrile che stiamo organizzando come detto sono dati scientifici sono dati dell'IPCC per cui non è lega ambiente non è Greenpeace quei 2 centigradi sono da ricordare perché superando quei 2 gradi c'è il rischio di un effetto domino effetto domino significa che certi particolari elementi degli ecosistemi potrebbero finire fuori scala cioè mi spiego se dopo anche siamo intelligenti e azzeriamo lo scarico di CO2 o di gas serra è troppo tardi perché questi meccanismi ormai sono autoproducenti parlo per esempio del permafrost cioè quelle zone permanentemente ghiacciate grande estensione in Siberia Canada Groenlandia oggi trattengono il ghiaccio trattiene una massa gigante di carbonio questo carbonio esce in forma di CO2 e di metano cioè l'unica soluzione domani sarebbe poi di prendere il pianeta e metterlo in frigorifero ma potete immaginare che questo non siamo capaci di fare per cui il nostro impegno deve essere questo di evitare un cataclisma una catastrofe proprio in Italia percepisco che c'è una consapevolezza perché ormai si può toccare questo problema quello che mi preoccupa è che c'è un atteggiamento dice va bene dobbiamo fare qualcosa ma lo faremo ci vuole il tempo ma lo faremo la finestra si sta chiudendo non abbiamo più tempo da perdere gli esperti dicono 2030 entro 2020 dobbiamo dimezzare ciò che oggi scarichiamo per avere uno scarico zero netto zero 2050 e poi oggi dobbiamo già occuparci di togliere ciò che abbiamo già nell'aria perché questo 420 non possiamo tenerlo dobbiamo scendere a 350 cioè non solo scaricare più niente togliere ciò che abbiamo nell'aria per cui potete immaginare non è un gioco da poco e qua vedete il driver il motore di questo dramma che stiamo scrivendo è l'uso del petrolio carbone e gas il fossile quasi l'80% del fabbisogno mondiale copriamo con queste energie non rinnovabili la difficoltà nella comunicazione sta proprio perché ho visto un sacco di macchine fuori diesel al benzina scommetto che chi l'ha utilizzato non ha pensato che oggi toccando l'acceleratore dietro esce qualcosa che influisce sul clima non oggi non domani per qualche centinaia di anni cioè come possiamo noi dire per il nostro benessere me ne frego delle future generazioni perché questa CO2 è presente ed è efficace sul bilancio energetico per centinaia di anni per descrivere questa questa follia basta ricordare che ogni secondo per far funzionare la nostra civiltà stiamo bruciando 183.000 litri di petrolio stiamo incontro bruciando 250 tonnellate di carbone e circa 125.000 metri cubi di gas questo è il trio infernale e vuol dire secondo i programmi per cercare di mantenere un futuro vivibile zero entro 2050 cioè praticamente in 20-30 anni un sforzo gigante va ricordato che non abbiamo una crisi energetica questa è una frottola non c'è crisi energetica c'è la crisi del drogato perché questo petrolio questo fossile ci ha drogato e adesso andiamo abbiamo visto che un spacciatore è finito quasi in galera e cerchiamo un altro spacciatore però non abbiamo ancora capito che dovevamo abbandonare questi fossili se vogliamo avere un futuro vivibile i pilastri per questa transizione energetica quali sono? beh l'efficientamento vuol dire il risparmio energetico è il passaggio dal fossile al rinnovabile qui vedete che stiamo dormendo per questo abbiamo una crisi di percezione negli ultimi 5-6 anni l'Italia è ferma nella produzione del rinnovabile nonostante che abbiamo un qualcosa l'intera domanda pronta per l'autorizzazione che richiede l'autorizzazione sono 280 gigowatt dobbiamo installare circa 80 gigowatt entro 2030 quest'anno abbiamo realizzato cioè dovremmo realizzare ogni anno 10 e abbiamo installato uno cioè non stiamo facendo i compiti in casa non è una crisi energetica è la crisi del petrolio del gas il sole ci manda sul pianeta 10.000 volte quello che l'intera umanità sta consumando è un problema di passaggio dal fossile al rinnovabile nonostante che i prezzi sono crollati del fotovoltaico dell'eolico però abbiamo una burocrazia talmente esuberante che come detto 280 gigowatt di domande 10 dobbiamo fare ogni anno e non succede niente mi hanno chiesto l'interpretazione della sostenibilità è una parola che non dovremmo neanche più utilizzare perché ormai è diventato solo marketing voglio ricordare che c'è stata un'evoluzione anche paragonando negli ultimi 50 anni quando abbiamo insegnato la sostenibilità il famoso equilibrio tra quei tre cerchi tra economia ambiente e società questo era sbagliato e si sapeva già all'inizio per quale motivo è sbagliato perché l'economia è insediata in un mondo in una natura che funziona se quella natura non funziona più l'economia non può funzionare per cui ci sono delle priorità non è un equilibrio economia ed ecologia solo con ecosistemi funzionanti rigeneranti è possibile svolgere un'economia per cui attenzione di non sforare i cosiddetti confini planetari che per esempio nell'ambito clima nell'ambito del fosforo dell'azoto abbiamo già superato ritornando al nostro tema principale l'elefante nel climate room nella stanza del clima è l'edilizia il mondo delle costruzioni a scala internazionale sono 40% di gas serra sono il 33-34% dell'intero consumo di energia ed è il più grande contribuente di rifiuti per cui queste delizie che noi oggi conosciamo dobbiamo per forza correggere pensate che oggi abbiamo due miliardi di persone che vive nei bedonville solo per dargli un'abitazione dignitosa poi servono ovviamente ospedali servono scuole servono strade cioè si è stimato di portare vi ricordate i 17 millennium sgol delle nazioni unite per portare quella fascia debole del pianeta a delle condizioni come la fascia della media inferiore dell'occidente significa un quantitativo di materiare prima di 2,2 miliardi di metri cubi di materiali da costruzione avete visto prima tutto il mondo costruito sono 1,1 miliardi ci serve il doppio per il mondo delle costruzioni per portare quella fascia in un'altra fascia cioè non sta funzionando perché siamo fra breve in 10 miliardi di persone per cui dobbiamo rivedere certi tipi di materiali come per esempio avete visto la plastica o materiali che sono molto pesanti e hanno un'impronta pesante nella produzione non solo dal punto di vista energetico ma anche nell'intero profilo dell'impatto ecologico perché oggi ci comportiamo come non ci fosse un domani il mondo delle costruzioni si comporta che domani non esiste penso solo ad oggi e questo ovviamente è gravissimo perché come ho detto la natura non ti dice non puoi farlo ti presenta il conto la natura ha regole leggi non negoziabili il quadro nazionale lo conoscete bene dei consumi e dei consumi l'abitazione quanto consuma come media sono circa 1300 metri cubi di gas un appartamento questo è un lusso se questa massa di energia dovrebbe essere prodotta con i miei muscoli mi serverebbe un esercito di schiavi energetici cioè abbiamo perso la sensazione che cos'è energia cioè con i nostri muscoli siamo in grado di produrre l'equivalente di 14 metri cubi di gas all'anno 14 metri cubi all'anno è il nostro massimo sforzo con i nostri muscoli per produrre l'equivalente abbiamo le case come media che consumano 20 metri cubi di gas al metro quadro e hanno al metro quadro cioè io con i miei muscoli non potrei neanche riscaldare circa mezzo metro quadro di un'abitazione capite? aveva un grande spreco dobbiamo rivedere diciamo il modo di progettare di costruire e prima di tutto deve essere tagliati i consumi e questo vuol dire evidenziare la qualità dell'involucro che non vogliamo capirlo lo predichiamo da decenni efficienza significa tagliare le perdite per via di trasmissione di ventilazione non dobbiamo inventare niente questa è la bella notizia abbiamo il know-how abbiamo il materiale abbiamo i componenti abbiamo le conoscenze la mano d'opera ma dobbiamo applicarlo applicare vuol dire ciò che abbiamo costretto nel dopoguerra dobbiamo rifare non c'è alternativa l'Europa lo sa con gli ultimi piani 35 milioni di edifici sono da rifare in Europa e devono alzare diciamo il ritmo della riqualificazione profonda di questi interventi l'Italia ha qualcosa di 24 milioni dialoggi e ritorno ancora a questo tema della materia prima cioè non possiamo trasformare il pianeta in un famoso formaggio Emmental pieno di buchi per cui dobbiamo essere diciamo più intelligenti nell'uso della materia prima non solo di energia ma anche della materia prima questo è un dato che a qualche anno l'ultimo dato non sono riuscito è fresco di paio di giorni siamo a 100 miliardi ma non è cambiato la quota del recuperato che si gira intorno all'8% per cui oggi è questa famosa economia lineare che ci frega perché prendiamo la materia prima e la trasformiamo in rifiuto la difficoltà è che la gran parte di questa impronta climatica è invisibile perché la gran parte avviene nella fase del prelivo della materia prima nella progettazione nella fabbricazione per cui serve un linguaggio di comunicazione dove vengono in modo trasparente comunicati questi dati cioè dobbiamo alleggerire la nostra impronta su questo pianeta per cui di sicuro andiamo a premiare a favoreggiare materiali rinnovabili cioè che la natura produce in continuo e che possiamo ridare alla natura quando non ci serve più questo è un principio fondamentale della sostenibilità ovvio misurato con la durabilità del materiale e del prodotto finito per cui abbiamo oggi i famosi 5R che dovrebbe essere presente chi oggi opera nel settore sia come professionista sia anche come impresa cioè la riduzione la riutilizzazione del riciclo raccogliere e recuperare cioè questi sono elementi fondamentali per poter contrastare questo percorso come ho detto che va nella direzione sbagliata come si comporta l'ente pubblico la politica questo è una slide molto complessa l'Europa è partita nel 2000 con la strategia clima ed energia che poi ha avuto una sua visibilità con il famoso pacchetto 20-20-20 del 2009 dove praticamente è stato assorbito l'accordo di Chiotto il protocollo di Chiotto del 97 ma comunque è un tema di vecchia data perché la conferenza di Rio del 92 l'Europa è partita nel 2000 nel 2016 sono stati riformulati il famoso pacchetto 20-20 cioè portare la riduzione del CO2 al 20% aumentare il contributo del rinuovo al 20% e tagliare il fabbisogno di energia primaria del 20% questo poi è diventato 40-32 32,5 nel frattempo è subentrato questo conflitto con l'Ucraina l'Europa ha rafforzato l'impegno perché si è ricordato l'indipendenza energetica mi ricordo nella prima presentazione pubblica di Casa Clima il prezzo del petrolio era 15 dollari per il barile oggi siamo intorno a 80-100 dollari uno dei pilastri era l'indipendenza energetica a suo tempo abbiamo già cercato di comunicare guardate l'Italia non ha ciò che gli serve in casa di petrolio di carbone o di gas per cui dobbiamo investire in indipendenza energetica vuol dire il sole non ti manda la buoletta e non ti ricatterà mai 20 anni abbiamo perso non solo abbiamo perso quasi 50 anni vi ricordate la prima crisi del petrolio nel 73 vi ricordate le promesse dei politici mai più sarà una situazione dove abbiamo questa vediamo questa gravità della dipendenza energetica dove a suo tempo i produttori del petrolio e il Medio Oriente ha chiuso il rubinetto del 10% non è che l'ha completamente diciamo interrotto solo il 10% ed era un shock un primo shock in Europa per far capire guardate cosa significa essere dipendenti di ciò che è la base di qualsiasi benessere di qualsiasi economia perché senza energia non fai niente non solo se quell'energia diventa troppo cara l'economia si rallenta se tolgo l'accesso all'energia a una società quella società viene catapultata in una società arcaica l'Europa in questo momento rischia di essere catapultato in una direzione che secondo me ci vorrà tanti anni a riprendere perché ci butta fuori dalla competizione perché la ricchezza della Germania ma anche dell'Italia nasce perché aveva per decenni accesso alle fossili a bassissimo costo cioè la nostra ricchezza dell'Italia nasce proprio da questo Marshall Plan che ha dato all'Italia l'accesso a ciò che non ha in casa però alzare questa energia che altri non hanno quel rincaro per esempio come gli Stati Uniti o la Cina vuol dire che perdiamo ovviamente competizione l'ultimo pacchetto è il Fit for 55 cioè dove praticamente 20-20-20 che diventa 40-32-32-5 sono passati al 55 Germania 60% meno CO2 entro 2030 e alzare le rinnovabili al 45% questo ovviamente è un impegno che l'Europa vuole spingere gli Stati membri perché sa che dipende il benessere di questo colosso economico Europa l'Italia con grande ritardo il PNIEC si è fermato al quasi 40% e io sono tecnico per cui posso parlare liberamente queste prime uscite del nuovo ministro mi fanno preoccupare perché vuole aprire nuove estrazioni e vuole parlare del ultimo nucleare quarta generazione ma non abbiamo il tempo a disposizione dobbiamo accelerare la storia che cosa ci insegna la storia ci insegna di anticipare le tendenze per un'azienda è fondamentale se sei cieco verrai buttato fuori dalla piazza semplice la regola e questo stiamo facendo in questo momento Repower l'ultimo elemento dell'Unione Europea è proprio questa indipendenza che l'Europa cerca ovviamente di accelerare però ci vuole la partecipazione dei stati membri però dobbiamo cogliere questa prescrizione come grande opportunità se la Germania solo per l'eolico sta prevedendo circa il 3% del territorio per il parco eolico all'Italia serve il 0,2% per le intere rinnovabili cioè è fattibile è stato calcolato ed è anche economico perché è stato dimostrato quanti posti di lavori possiamo creare con questo tipo di investimento vado in chiusura voglio comunque ricordare ribattere che l'energia più sostenibile più pulita in assoluto è quella non consumata il famoso negavat ricordo ancora nelle delizie significa privilegiare gli interventi nell'involucro lì riesco veramente tagliare i consumi del 90-95% guardate il primo slogan che aveva Casa Clima è guardate 10 Casa Clima consumano come una casa tradizionale 1 a 10 per cui non è un risparmio omeopatico è veramente pesante è un'iniziativa che va evidenziata il New European Bauhaus che ha presentato Ursula von der Leyen da Presidente della Commissione perché lo ricollega al Bauhaus famoso Bauhaus del 1919 è un'iniziativa culturale che richiede la partecipazione di artisti studenti ingegneri professionisti innovatori in una ottica dove si potremmo diciamo descrivere questo cammino bello sostenibile inclusivo quello che si legge poi in quei dettagli è che vengono e devono essere privilegiati soprattutto i materiali rinnovabili cioè che la natura ci dà disposizione ovvio anche l'economia circolare il materiale riciclato fa parte di un pilastro portante di questa filosofia per cui rinnovabile e reciclato per poter affrontare questa domanda che oggi aspetta circa stimano 2,2 miliardi di alloggi che deve essere ancora sviluppato non è solo l'Europa che vuole costruire ma tutto il resto del mondo che ovviamente partecipa a questa evoluzione qua vediamo il bilancio energetico in questo studio che fa parte della documentazione del New Bauhaus di questo studio internazionale di diverse università dove si va a analizzare quanto CO2 viene immagazzinato in questi prodotti che la natura fornisce e come ribadisco se non può essere riutilizzato riciclato può essere ridato alla natura un esempio in casa all'Alto Adige un mese fa ha presentato il piano clima 2040 nel settore edilizia per esempio si vuole spingere a utilizzare in maggior modo materiali rinnovabili con un percorso ovviamente non chilometro zero ma nelle vicinanze senza fare grandi viaggi perché ovviamente questi pesano nel bilancio complessivo e questo ovviamente è già un indirizzo che per esempio l'Austria sta seguendo con degli incentivi che premiano i materiali rinnovabili che possono essere il legno il sughero la canapa la paglia ci sono diversi materiali come detto non ci sarà domani un materiale ci sarà comunque un mix a disposizione secondo le esigenze del committente secondo le capacità anche del progettista ma comunque va visto la scelta sotto l'ottica di un ciclo complessivo famoso LCA o LCC vado in chiusura e concludo veramente ricordando il green non è un greenwashing cioè non basta una tinterella mi viene in mente questo provvedimento di Los Angeles non so se conoscete questo provvedimento ci sono un annello intorno alla città tutte vilette e ognuno ha un suo piccolo orticello verde però ci sono tanti che non vanno a casa ogni settimana per cui questo questo verde dell'erba divento giallo marrone e questo stona ovviamente l'immagine per cui hanno rilasciato un provvedimento che paga una sanzione chi non cura il verde cosa hanno inventato? Una vernice hanno tinteggiato l'erba il classico di greenwashing cioè questo non è green green è una è una nuova cultura una cultura che potremmo definire responsabilità forse più appropriata che la scelta di parlare di responsabilità cambiare comunque abbandonare le abitudini è difficile però non cambiare potrebbe dimostrarsi veramente fatale Dario mi ha chiesto stamattina forse puoi chiudere una volta anche con un po' di ottimismo ho preso spunto da questa tua richiesta per questo chiudo con questa citazione di Martin Luther di 500 anni fa quando ha detto anche se sapessi che domani il mondo finisse pianterei lo stesso nel mio giardino un albero di mele grazie grazie